Ciao a tutti amici, benvenuti sul nostro canale in questo nuovo video. Allora, oggi Maria Pia vi vuole presentare le sue bimbe, è vero? Sì. Come si chiamano? Me si chiama Sofia. Prendila, falla vedere. Si chiama Sofia. Ciao Sofia, come è carino, tutta piccola, ma che bella tutina, vediamo. Prendila di nuovo. Ah, che bella tutina, c'ha anche un cappello. E lei invece si chiama? Alice. Alice, ma che bel nome. E cosa hai preparato alle tue bimbe? Cosa hai preparato? Oh, la pappetta, giusto, e il latte. Ma chi è la più piccina tra le due? Ah, ho capito. Vediamo, sì? Oh, che carino. Beve il suo latte con il biberon. Oh, le piace? Sì. Le piace molto? Ora lo faccio vedere. Sì? Ma che carino. Mamma. Ciao, Marara. Io vedo tutte le cose per mia figlia. Ok. Sì? E lì dietro chi è? Ciao. E lui chi è? È Teddy. Teddy. Ma com'è carino. Scommetto che è tutto morbidoso. Sì. Giusto? Vediamo. Prendila in braccio. Ciao, Teddy. Saluti i nostri amici. Fai ciò con la mannina. Ciao. Ma che carino. E adesso? Andiamo a fare il bagnetto. Il bagnetto. Oh, qui abbiamo due vaschette. Che carino. Giralo verso di me, così facciamo vedere i nostri amici. Amore. E sì, giusto. Perché la sera, prima di andare a nanna, bisogna fare un bagnetto rilassante ai bambini. È vero? Sì. Ok. E ha seguito. Che carino. E adesso è il turno di Alice. Ciao, Alice. Ciao, Alice. Ciao, Aurora. Non so cosa prendere il mio figlio. E questo è proprio mio figlio. Dai, poi vediamo, Aurora. Voglio che per lavare? Sì, brava, giusto, certo. Bisogna lavare i vestitini sporchi. L'igiene è molto importante. E' un calcini? Sì. Ora prendiamo la sua macchetta. Sì. E Alice fa il bagnetto. Eh, già. Brava. Così andranno a dormire. Belli puliti. E rilassati. Ora ci mettiamo i capelli. Sì. Brava, sì. Mamma, ho fatto un gioco per mia figlia. Ok. Vediamo. Ma anche questo è un gioco adatto per mia figlia? Certo, sì. È un giocattolo, un giochino a suonaglia. Posso fare i bimbi piccoli? Sì. Sì. Hola. Vediamoci questa pietà di questo. Sì. Dalla nocchia. Mangiamo un altro accorso. Vediamo. Oh, com'è carina questa maglietta. Con i fiorellini. Amore, ed eccola qui, con la sua magliettina, con i fiorellini. Il video finisce qui. Noi vi salutiamo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate dei commenti.